La domanda è interessante e ovviamente io non ho la risposta, però posso interloquire su questo perché in realtà il nostro paese è un paradosso, il numero di persone che è in campo, dentro lotte, vertenze, pratiche alternative, esperienze, parlo da chi fa il pane con il liveto a pasta madre a chi assalta i cantieri del TAP per capire l'ampiezza dell'arco, quantitativamente questo numero non è mai stato così ampio come negli ultimi dieci anni, paradossalmente forse no, non ha mai contato così poco come in questi dieci cioè il problema non è che le persone non sono in campo, sono due ordini di problemi uno che la crisi della nostra democrazia è tale per cui tutto questo non emerge e quando emerge viene represso perché poi bisogna dire le cose come sono e dall'altra però questo diciamo impossibilità di poi realizzare delle cose modifica anche l'aspettativa delle attiviste degli attivisti. Io proprio anche girando diversi posti ho sempre visto che le persone in quello che stanno facendo sono sapienti e radicali, quasi nessuno pensa che quello che sta facendo è la tappa della costruzione di un'alternativa di società, cioè questo secolo è cominciato diversamente da quello precedente e la cifra che prima era il conflitto è diventata la crisi e l'emergenza. Nel secolo scorso centinaia di milioni di uomini e donne si sono mossi dietro due parole, socialismo e comunismo. 95% di loro non sapeva nemmeno cos'era quella cosa lì però era l'idea che ci fosse una società diversa, la possibilità di una società diversa a li faceva mettere in moto, due faceva ricondurre quello che facevano materialmente dentro quell'orizzonte per cui io faccio il pane e io gli ho la pasta madre perché cambia la società, io salto i cantieri del TAV perché la società complessivamente, questo secolo ha sostituito il conflitto con le crisi e le emergenze, se vedete noi siamo continuamente bombardati dall'emergenza di turno, è stato il debito pubblico, poi è arrivata la crisi sociale, poi la crisi climatica, poi la crisi della guerra, adesso vedrete l'estate che arriva. Questo bombardamento serve a, come diceva prima Alessandra, a smettere di farci pensare che le cose avvengono perché c'è un prima e c'è un poi, cioè è come se ci restituissero delle fotografie a se stanti e cerchino di impedirci di fare un film, cioè di collegarle fra di loro. E questo è il problema che abbiamo, per cui questa parte qui è stata anche interiorizzata. Ora, una strada secondo me è quella che alcune esperienze come la GKN, la Val di Susa, non solo quelle, diciamo non ce ne sono altre, però è il riconoscimento che il modello capitalistico è talmente pervasivo che qualsiasi contraddizione si apre, è un pezzo della costruzione di un'alternativa di società. E allora, per esempio, la convergenza dei movimenti, che adesso tutti dicono, è qualcosa di molto di più del io ti do una pacca sulla spalla e tu me la dai a me in modo che la tua lotta e la mia sono sorelle, è il riconoscimento che da qualsiasi punto di vista si parte stiamo dicendo qualcosa sul modello capitalistico e quindi anche stiamo producendo un pezzo dell'alternativa. quando si riesce a fare questa convergenza allora si riapre anche l'idea dell'orizzonte e l'idea della speranza. D'altronde il modello attuale, questo secondo me dobbiamo averlo chiaro sempre, primo la questione della precarietà della vita delle persone è studiata apposta per non far pensare a un prima o un dopo. Guardate che la precarietà è esattamente questa cosa qua, è oggi, punto. Ti inchioda il presente. Sì, io ho bisogno di sapere come faccio ad arrivare a questa sera. Questo impedisce la progettualità. Come si fa a parlare di indipendenza nel senso di crescita e autonomia dalla famiglia di origine se le condizioni materiali non lo permettono? Come si fa a pensare di costruirsi il proprio progetto di vita se la precarietà è la dimensione esistenziale? Questo è studiato esattamente per favorire il fatto che ciascuno inchiodato al presente, beh, alla sera ascolta alla televisione qual è l'emergenza che gli viene comunicata quel giorno. E come reagisce a questa cosa? Con il panico e l'immobilismo. Noi dobbiamo riuscire a far passare le persone, secondo me lo si fa facendole incontrare, dal panico alla preoccupazione. Perché il panico immobilizza, la preoccupazione è l'inizio dell'occuparsi, preoccuparsi. E bisogna fare in modo, perché se si passa dal panico alla preoccupazione, il rancore diventa rabbia e speranza. Il panico quando c'è una reazione al panico produce solo rancore. Quello che oggi si socializza più facilmente è il rancore. allora, occorre far incontrare le persone, occorre aiutarle a superare il panico che immobilizza e poi secondo me dobbiamo anche, diciamo, riavvicinare due modi di stare al mondo da parte degli attivisti e delle attiviste. Uno è di quelli, diciamo, io li chiamo, io dico nel libro che bisogna mettere insieme, quelli del sol dell'avvenire con quelli dell'avvenire del sole. Quelli del sol dell'avvenire sono quelli che dicono, prima bisogna prendere il potere, perché poi una volta che avremo preso il potere, automaticamente la società cambia. Abbiamo visto che non funziona così. Quelli dell'avvenire del sole sono quelli che dicono, ognuno di noi deve fare un'esperienza concreta, la somma della mia, della sua, poi della sua, la somma di tutte produrrà la società diversa. Non funziona nemmeno questo. Perché? Uno perché il sistema dominante non è che sta a guardare. Finché le esperienze alternative sono una nicchia, va bene. Quando diventano, diciamo, una parte consistente, se possono, le sussumono. Pensate ai prodotti del commercio ecosolidale che li trovate sugli scaffali del supermercato. Cioè hanno una cosa che era nata come alternativa di società, viene assunta e diventa un pezzo di mercato. Oppure, se non è quello il caso, reprimono. Perché ovviamente… Allora, come si fa a mettere insieme il soldo dell'avvenire con l'avvenire del sole? Secondo me bisogna, io nel libro dico, passare dal fare rete al costruire tessuti. E cioè, il fare rete, che è la cosa che tutti facciamo e diciamo, va bene se abbiamo in mente quali sono i deficit della rete. La rete mette insieme i nodi e lascia dei buchi pazzeschi. Cosa vuol dire? Che se va bene mette insieme le attiviste e gli attivisti. Ma la società liquida passa attraverso i buchi e non viene minimamente toccata da tutti i ragionamenti e le esperienze che facciamo noi. Allora bisogna costruire tessuti. Che cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo fare esperienze concrete di alternativa di società, sapendo che quelle esperienze concrete sono un pezzo del conflitto che bisogna mettere in campo per cambiare la società completamente. E cioè, chi occupa un terreno incolto per fare gli orti urbani autogestiti, fa una cosa egregia, ma deve anche fare altre due cose secondo me. Uno, andare a vedere cosa prevede il piano generale sul territorio, perché magari il giorno dopo quell'esperienza viene spazzata via dalla costruzione di un centro commerciale. E fare una lotta gigantesca perché l'esperienza degli orti urbani diventi generalizzabile. Perché altrimenti rimane patrimonio di chi è stato sufficientemente amato da avere le energie per fare le lotte, da chi è stato sufficientemente istruito per capire le cose. Ma chi non ha avuto tutta quell'esperienza lì, ma godrebbe dell'orto urbano, come gliela permettiamo se non si generalizza quella pratica? Cioè, se non facciamo delle lotte perché diventi una pratica per tutti? Allora, secondo me, noi dobbiamo costruire le esperienze perché dobbiamo combattere il capitalista che è in noi, perché non è che noi siamo esterni semplicemente perché la pensiamo diversamente, no? Abbiamo interiorizzato molte cose, no? Tanto è vero che secondo me una delle malattie più grosse della sinistra è il narcisismo, no? Che impedisce anche molto della cosiddetta convergenza, unità e lavoro comune. Allora, vanno fatte esperienze concrete perché la società diversa avviene solo se noi facciamo esperienze di trasformazione. Dopodiché queste esperienze concrete devono avere chiaro che il cambiamento generale può avvenire solo con un conflitto esteso. Cioè, quello che sta succedendo in Francia in questi giorni è un elemento importante perché se analizzate o vi documentate su quello che sta avvenendo è partita la lotta sulla questione delle pensioni, adesso ci sono in campo i ragazzini di 15 anni che dicono non sono le pensioni, è la vita. E stanno in piazza contro il governo, Macron, ma anche contro il governo, cioè stanno dicendo così non funziona, noi siamo in piazza per la vita. Anche perché uno di 15 anni raramente scende in piazza per le pensioni, no? Perché appartengono anche a una fase della vita che quando sei adolescente dici anche ma chi se ne frega degli anziani, no? C'è questa, diciamo, ribellione in corso per cui la vita è tua e chi se ne frega delle altre generazioni. però è interessante che invece stanno scendendo in piazza i ragazzi e le ragazze dicendo non sono le pensioni e la vita. Allora, mettere insieme la trasformazione concreta, cioè fare delle cose concrete che permettono alle persone di capire che è possibile e nello stesso tempo sapere che però bisogna fare le lotte, cioè bisogna fare i gruppi di acquisto solidale ma anche fare le lotte contro la grande distribuzione commerciale. Bisogna occupare uno spazio e mettere in piedi un centro sociale autogestito ma combattere la rendita finanziaria e immobiliare nella città. Perché altrimenti continuiamo a rimanere in una dicotomia su cui i poteri giocano la loro partita. Ovviamente non ti ho risposto però... se non ci sono altri interventi è piuttosto... è frammentato universo di movimenti, di realtà piccole che vanno dal volontariato sociale appunto a quello ambientale, abbia in sé proprio dal punto di vista della quantità dei soggetti che si muovono, le potenzialità per poter diventare l'elemento insorgente e rivoluzionario a questo punto. Perché i numeri contano anche, no? Alla fine per poter determinare dei cambiamenti. Diciamo che secondo me c'è una generazione che sta scendendo in campo, che è scesa in campo per cui più che tutte queste esperienze poi chi può diciamo far scattare la scintilla è questa generazione, chiamiamola ecologista per capirci, che è una generazione che tra l'altro si trova in una situazione molto complicata. Perché se ci pensate bene, questa è la prima generazione che cresce con il futuro che è un punto di domanda. Tutte le generazioni precedenti, dalla seconda guerra mondiale in poi, sono state attraversate anche da tragedie tremende, no? Pensate a chi ha fatto l'adolescenza durante la guerra, ma sono sempre state adolescenze con l'idea che il futuro sarebbe stato meglio del presente. Questa è la prima generazione che quando pensa al futuro esce un punto di domanda e quando guarda a noi il punto di domanda diventa ingrassetto, no? Perché? Questa è una generazione che quando si dice hai tutta la vita davanti non è più così vero. Questa è una generazione che quando noi paternalisti diciamo dopo di noi il diluvio, per loro rischia di essere una previsione meteorologica, cioè la realtà vera. Nonostante questo, Fridays for Future, Ultima Generazione, Climate Camp, Extinction Rebellion. In questi giorni ci sono stati tre giorni di lotte nei bacini in Francia con manifestazioni gigantesche, anche scontri pesanti. Secondo me quella generazione è quella che può far partire la scintilla. Che cos'è la scintilla? La scintilla è l'idea che si può cambiare il mondo. Dopodiché l'insieme di tutti i soggetti che dico io, se si riapre l'idea che è possibile cambiare, allora possono scendere in campo. Cioè sono stimolati a scendere in campo perché non è la nostra generazione quella che cambia, anche per questioni anagrafiche. Io mi ricordo qualche anno fa quando hanno detto facciamo l'occupazione permanente davanti, io ho detto benissimo, però ho portato dei diciottenni o io ci sto due notti e alla terza devo andare a dormire a casa, perché le ho fatte quando avevo vent'anni, adesso ho una certa età, non reggo quindici notti in tenda davanti. Quindi la fa la generazione giovane, la ribellione, però secondo me oggi quello che manca è esattamente l'idea che è possibile cambiare l'orizzonte. Questa generazione, anche perché ha una grande libertà, cioè non ha scelta, è quella che potrebbe far scattare questa scintilla, perché la questione ecoclimatica tra l'altro è anche, tra tutte le contraddizioni è quella che rende più evidente l'impossibilità del capitalismo. Perché la contraddizione capitale al lavoro se la sono mangiata, rimangiata, cioè dopo 200 anni di lotta di classe siamo allo schiavismo nel lavoro, quindi non che non c'è quella contraddizione, ma il capitalismo ha dimostrato di… secondo me la contraddizione ecologica rende evidente l'impossibilità del capitalismo e quindi questa cosa, tra l'altro frequentando un po' il giro Friday for Future, parlo della realtà romana, è incredibile come cambiano in un arco di breve tempo. Cioè da solo sei mesi fa dicevano il governo dovrebbe essere fatto dagli scienziati, perché gli scienziati hanno studiato e quindi sanno cosa bisogna fare. Adesso parlano tranquillamente di anticapitalismo. Ah sì? Sì sì sì. Beh ma poi sai quando i movimenti nascono, le connessioni si fanno velocemente. Cioè non è vero che adesso le persone che non si muovono, come dicevi tu, hanno bisogno di fare tutta la scuola di formazione. Quando poi un movimento si muove, le persone fanno in fretta a fare tutte le connessioni. Perché per ora, finché non c'è un movimento di massa per le strade, ogni persona guarda il mondo dal suo punto di vista. Quando si muove il mondo, le persone immediatamente capiscono cosa c'entra il lavoro, con l'ecologia, con il femminismo. Cioè le connessioni si fanno velocemente quando i movimenti si muovono. Faccio un esempio. Prima il movimento alter mondialista. Se uno avesse detto a me, ma non solo a tutti noi, un mese prima di Seattle, quando c'è stata l'esplosione, che sarebbe nato un movimento che parlava di un altro mondo possibile, quindi di un'alternativa di società mondiale, io avrei detto no, non ci sono le condizioni, no, perché secondo le mie analisi, una settimana dopo c'era in Piazza del Mondo. E c'erano i difensori delle tartarughe a Seattle, c'era lo spezzone dei lavoratori delle fabbriche metalmeccaniche e davanti c'erano i difensori delle tartarughe. Per chi conosce quella classe operaia e i difensori delle tartarughe, se uno avesse detto non solo stanno nello stesso corteo, ma stanno pure vicini, avrei detto mamma mia, non è possibile ed è successo. Ma pensa alla GKN. Adesso voglio dire, carissime i compagni, ma cultura operaia di quelle... vagli a spiegare l'ecologia, l'ambiente. Oh, nell'arco di tre mesi, adesso GKN si chiama ex GKN for future e hanno fatto un progetto di riconversione ecologica della produzione. E non è che loro erano operai frichettoni, cioè di quelli a che è bello l'ambiente, che è bello... la cultura operaia di quelle storiche, di quelle... diciamo... d'antan, no? Però hanno avuto l'intuizione di spiazzare, no? Arriva la MEI che ti licenzia, cosa fanno di solito le vicende operaie? Vanno dal sindacato, chiedono la mediazione, vanno dal governo e chiedono un tavolo, per carità e massimo rispetto, non è che... e finisce tutto in niente. Loro che cosa hanno fatto? La prima volta che le persone sono andate da loro non hanno detto come stiamo, hanno chiesto a noi ma voi come state? Cioè, quello che succede a noi riguarda anche voi, non venite qua a chiederci come stiamo noi, venite qua a dirci come state voi e poi noi vi diciamo come stiamo noi. E poi si sono rivolti a Firenze, al territorio, hanno detto ma se chiude una fabbrica, voi c'entrate o no? Voi chiesa, parrocchia, voi istituzioni, voi commercianti, vi riguarda o no? Poi sono andati anche al ministero a fare tutte quelle altre cose lì, no? Però hanno proprio deviato il copione e questa cosa ha acceso le cose, no? per cui tutti noi adesso diciamo siamo con la GKE. Cioè hanno parlato a una fascia molto più ampia di popolazione di quella che l'avrebbe sentita. Perché se facevano la classica lotta tutti avremmo detto siamo con voi solidari.